Buongiorno Cecilia Giorgio Salve State andando a fare una scampagnata? Si, sa quanto si piace stare immersi nella natura Eh si, poi oggi è una bellissima giornata Però mi raccomando, fate attenzione Non oltrepassate per nessun motivo il fiume Sapete che quella parte del bosco è molto molto pericolosa Ti conviene stare attento Sei tu che è un lato? Si, ho visto un corpo Si? Vieni presto Ceriffo! Ragazzi ma siete sicuri di quello che state dicendo? Ceriffo Johnson, mio fratello non è pazzo Se dice che lì c'era un corpo allora vuol dire che è vero Allora avete indeciso di interrompere le ricerche? Come vi ho già detto abbiamo setacciato la zona Ma non abbiamo trovato tracce Nessun ragazzo scomparso Tu invece perché non sei a casa? È tardi Guarda, guarda la sorella dello scheriff Tutta sola a fare qualcosa di bosco Beh, è difficile capire chi mente da chi sta dicendo la verità in questa situazione Che cosa intendi di losco? Parla! Riti satanici In base a cosa scegliono le loro vittime? Che scopo hanno questi assassini? Aiuto! In base a cosa scegliono le loro vittime? 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 In base a cosa scegliono le loro vittime?